Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Oggi parliamo di quella forma di preghiera che è la meditazione. Per un cristiano, meditare è cercare una sintesi. Significa mettersi davanti alla grande pagina della Rivelazione per provare a farla diventare nostra, assumendola completamente. Il cristiano, dopo aver accolto la parola di Dio, non la tiene chiusa dentro di sé, perché quella parola deve incontrarsi con un altro libro, che il Catechismo chiama quello della vita. È ciò che tentiamo di fare ogni volta che meditiamo la parola. La pratica della meditazione ha ricevuto in questi anni una grande attenzione. Di essa non parlano solamente i cristiani. Esiste una pratica meditativa in pressoché tutte le religioni del mondo. Ma si tratta di un'attività diffusa anche tra le persone che non hanno una visione religiosa della vita. Tutti abbiamo bisogno di meditare, di riflettere, di ritrovare noi stessi. È una dinamica umana. Soprattutto nel vorace mondo occidentale si cerca la meditazione perché essa rappresenta un arcine elevato contro lo stress quotidiano e il vuoto che ovunque dilaga. Ecco dunque l'immagine di giovani e adulti seduti in raccoglimento, in silenzio, con gli occhi socchiusi. Ma cosa fanno queste persone? Possiamo domandarci. Meditano. È un fenomeno da guardare con favore. Infatti noi non siamo fatti per correre in continuazione. Possediamo una vita interiore che non può sempre essere calpestata. Meditare è dunque un bisogno di tutti. Meditare, per così dire, assomiglierebbe a fermarsi e fare un respiro nella vita. Fermarsi. però ci accorgiamo che questa parola, una volta accolta in un contesto cristiano, assume una specificità che non deve essere cancellata. Meditare è una dimensione umana, necessaria. Ma meditare nel contesto cristiano, noi cristiani, va oltre. Una dimensione che non deve essere cancellata. La grande porta attraverso la quale passa la preghiera di un battessato, lo ricordiamo ancora una volta, è Gesù Cristo. Per il cristiano la meditazione entra dalla porta di Gesù Cristo. Anche la pratica della meditazione segue questo sentiero. Il cristiano, quando prega, non aspira alla piena trasparenza di sé. Non si mette in ricerca del nucleo più profondo del suo io. Questo è illicito. Ma il cristiano cerca un'altra cosa. La preghiera del cristiano è anzitutto incontro con l'altro, con l'altro ma con la maiuscula, l'incontro trascendente con Dio. Se un'esperienza di preghiera ci dona la pace interiore o la patronanza di noi stessi o la lucidità sul cammino da intraprendere, questi risultati sono, per così dire, effetti collaterali della grazia della preghiera cristiana, che è l'incontro con Gesù. Cioè, meditare è andare, guidato da una frase della scrittura, da una parola, all'incontro con Gesù dentro di noi. Il termine meditazione nel corso della storia ha avuto significati diversi. Anche all'interno del cristianesimo, esso si riferisce a esperienze spirituali diverse. Tuttavia, si può rintracciare qualche linea comune. E in questo ci aiuta ancora il catechismo, che dice così. Così dice il catechismo. I metodi di meditazione sono tanti quanti maestri spirituali, ma un metodo non è che una guida. L'importante è avanzare con lo Spirito Santo sull'unica via della preghiera, Cristo Gesù. E qui segnala un compagno di cammino, uno che ci guida, lo Spirito Santo. Non c'è possibile la meditazione cristiana senza lo Spirito Santo. E' Lui che ci guida all'incontro con Gesù. Gesù ci aveva detto, vi invierò lo Spirito Santo, Lui ci insegnerà e vi spiegherà. Vi insegnerà e vi spiegherà. E anche nella meditazione è la guida per andare avanti nell'incontro con Gesù Cristo. Dunque, sono tanti i metodi di meditazione cristiana. Alcuni molto sobri, altri più articolati. Alcuni accentano la dimensione intellettiva della persona, altri piuttosto quella affettiva ed emotiva. Sono metodi. Tutti sono importanti e tutti sono degni di essere praticati in quanto possono aiutare. Aiutare che? L'esperienza della fede a diventare atto totale della persona. Non prega solo la mente. Prega tutto l'uomo, il totale della persona. Come non prega solo il sentimento. Tutto. Gli antichi sollevano dire che l'organo della preghiera è il cuore. E così spiegavano che è tutto l'uomo a partire dal suo centro, il cuore, che entra in relazione con Dio e non solamente alcune facoltà. Perciò si deve sempre ricordare che il metodo è una strada, non una metta. Qualsiasi metodo di preghiera, se vuole essere cristiano, fa parte di quella sequela a Cristi, che è in essenza la nostra fede. Il metodo di meditazione sono strade da percorrere per arrivare all'incontro con Gesù. Ma se tu ti fermi nella strada e soltanto guarda la strada, mai troverai Gesù. Farai un Deo, fra virgolette, dalla strada. No, il Deo ti sta attendo lì, è Gesù che ti attende. E la strada è per portarti a Gesù. Il Catechismo precisa. La meditazione mette in azione il pensiero, l'immaginazione, l'emozione, il desiderio. Questa mobilitazione è necessaria per approfondire le convinzioni di fede, suscitare la conversione del cuore e rafforzare la volontà di seguire Cristo. La preghiera cristiana, di preferenza, si sofferma a meritare i misteri del Cristo. Ecco dunque la grazia della preghiera cristiana. Cristo non è lontano, ma sempre in relazione con noi. Non c'è aspetto della sua persona divina umana che non possa diventare per noi luogo di salvezza e di felicità. Ogni momento della vita terrena di Gesù, attraverso la grazia della preghiera, può diventare a noi contemporaneo. Grazie allo Spirito Santo, il guida. Ma voi sapete che non si può pregare senza la guida dello Spirito Santo. È Lui che ci guida. E grazie allo Spirito Santo anche noi siamo presenti presso il fiume Giordano quando Gesù vi si immerghe per ricevere il Vattessimo. Anche noi siamo commensali alle nozze di Cana, quando Gesù dona il vino più buono per la felicità degli esposi. Cioè è lo Spirito Santo che ci collega con questi misteri della vita di Cristo perché nella contemplazione di Gesù facciamo l'esperienza della preghiera per unirci più a Lui. Anche noi assistiamo stupiti alle mille guarigioni compiute dal Maestro. Prendiamo il Vangelo, facciamo la meditazione di quei misteri del Vangelo e lo Spirito ci guida a essere presenti lì. E nella preghiera, quando preghiamo, tutti noi siamo come il leproso purificato, il cieco Bartimeo che riacquista la vista, Lazzaro che esce dal sepolcro. Anche noi siamo guariti nella preghiera, come era guarito il cieco Bartimeo, quell'altro lebroso. Anche noi siamo risorti, come è stato risorto Lazzaro, perché la preghiera di meditazione guidata dallo Spirito Santo ci porta a rivivere questi misteri della vita di Cristo e a incontrarci con Cristo e dire come il cieco Signore, abbi pietà di me, abbi pietà di me. Cosa vuoi? Vedere, entrare in quel dialogo. La meditazione cristiana guidata dallo Spirito ci porta a questo dialogo con Gesù. Non c'è pagina del Vangelo in cui non ci sia posto per ognuno di noi. Meditare per noi cristiani è un modo di incontrare Gesù. E' così, solo così, di ritrovare noi stessi. E questo non è un ripiegamento sui noi stessi, no, no. Andare da Gesù e da Gesù incontrare noi stessi guariti, risorti, forti per la grazia di Gesù. E' incontrare Gesù salvatore di tutti e anche di me. E' questo grazie alla guida dello Spirito Santo. Grazie.